Ricordatevi sempre, carissimi, che da oggi non sarete mai soli, non sarete mai soli. Gesù nel Vangelo ce lo dice, io sono il pane disceso dal cielo, chi mangia questo pane vivrà in eterno. Cristo viene a portarvi a perfezione, dove uno desidererebbe chissà questo marito quando deve diventare perfetto, questa moglie quando deve essere perfetta, Cristo viene a darvi compimento. Tanti auguri e buona festa. Oggi ci succede un insegnamento importantissimo, che se noi ci fidiamo di Lui, soprattutto se ci affidiamo a Lui, ogni passo che noi facciamo durante la quotidianità, che a volte scade nell'ordinaria età, diventa un passo prezioso per la vita eterna. Che noi qui, già da oggi, cominciamo la vita eterna. Per giungere a perfezione con il sacramento che tra poco Cristo vi donerà, il segreto è amare, amate l'Eucaristia. Questo è l'augurio che io vi faccio, che possiate stare sempre uniti a Gesù e che la fede che tra poco vi scambiate vi ricordi sempre la perfezione alla quale Cristo vi chiama, che è la perfezione dell'anima vostra.